Prende velocità il mezzo meccanico. Alla chiusura delle ali Paride Mas che coglie partenza veloce come era nelle previsioni ma Pecchi subito gli va a chiedere strada e ottiene terza posizione per Polinesia che ha di fuori Ptfoto SM. Il lancio in 13.6 da parte del leader con Paride che corre dietro a Pecchi che ha assunto deciso il comando delle operazioni. Nel frattempo all'esterno rimane Ptfoto SM che si trascina Parker Run con il primo quarto passato in 29 dal leader della corsa con a comandare sempre Pachi, Paride Mas che Ptfoto che ha conquistato la corda all'esterno l'undici di Parker che si trascina a sua volta Petrus e Penny Lane Hans con i 600 in 45 da parte del leader con ora il passaggio a metà corsa in 1.1 si viaggia da 1.16.5 scarsi con 16 di frazione con Pecchi che continua a menare la danza va a rifinire il primo chilometro in 1.15.5 14.5 di frazione la mossa di Parker Run al suo esterno con sempre Paride Maschi nel frattempo in terza posizione lungo i Birilli con Parker Run che all'esterno attacca e scavalca il battistrada 1.29.8 i tre quarti di miglio 14.3 la frazione muovono ora gli attesi Ptfoto SM e Paride Maschi che vanno sul leader della corsa Parker Run che è entrato in vantaggio in dirittura di arrivo sotto la minaccia ora di Paride Maschi e Ptfoto al suo esterno 4 cavalli che se la vanno a giocare lungo i Birilli e anche il numero 9 di Plejas ma delle battute conclusive dovrebbe essere ancora Paride Maschi ad aver avuto la meglio rivediamo il replay stretto stretto all'esterno è Ptfoto SM Ptfoto che va su Paride Maschi ma è Paride Maschi che vince per la seconda sono molto molto vicini lungo i Birilli il numero 9 di Plejas e il numero 4 di Ptfoto SM due minuti e sei intanto il tempo totale 1.15.4 il raguaglio al chilometro l'ultimo quarto in 38.16.1 per la dirittura di arrivo la vittoria ancora per Paride Maschi Antonio Storti 11.29 la quota al tot nazionale al secondo posto sono vicini tra loro il 9 lungo i Birilli di Plejas e il 4 all'esterno di Ptfoto SM in attesa di risponso ufficiale da parte del giudice d'arrivo all'esterno di Ptfoto SM